Sarà un 2019 pieno di attività, di lavori, di opere, di cantieri che apriranno, di grandi ripristino di alcune aree che sono state in questi anni colpite da distesso lo ideologico e soprattutto sarà un anno in cui cambierà il volto di una città che punta ad essere il capoluogo green. Questo lo faremo grazie ai fondi che abbiamo ottenuto con i POR per il piano della sostenibilità urbana. Sono 7 milioni di euro che verranno spesi nel corso di quest'anno e nel corso del 2020. Ci sono grandi opere come la pista ciclopedonale dello Scalo, così come il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico già arrivati tra l'altro nella nostra città, l'accesso facilitato al centro storico. Nel corso del primo semestre daremo finalmente alla città la possibilità di utilizzare un tunnel non bellissimo ma spero utile, cioè quello che collegherà il parcheggio di via Gran Sasso con il centro storico e ovviamente gli consegneremo anche la sede comunale dopo la debattra dell'impresa che aveva avuto l'appalto. A livello politico passate le turbulenze nella sua maggioranza? Credo sia stato in qualche modo risolto il problema anche se, continuo a dire, il tradimento di un paio di soggetti eletti grazie ai voti del centro destra è la mia vittoria. Oggi stanno all'opposizione e la distrazione, definiamola così, di due componenti dei partiti di centro dell'Udc purtroppo ci ha fatto finire l'anno con un disavanzo di amministrazione. Quindi dovremo recuperare i soldi che non abbiamo potuto incassare con la vendita della farmacia, il che vuol dire chiaramente che avremo sacrifici da fare. A febbraio si voterà per le regionali. Umberto Di Primio è stato in ballo per diversi mesi come possibile candidato presidente del centro destra. Ora c'è Marsilio, un nome che continua a far discutere. Sì, se io avessi avuto la possibilità di correre sono certo avrei intanto iniziato la campagna da un po', avrei potuto mettere insieme tutte le parti, ma oggi non si può parlare del passato né rimpiangere ciò che non è stato. Dobbiamo guardare avanti. Il centro destra è avvantaggiato in queste elezioni perché il centro sinistra, chiunque candidi, anche con candidature cosiddette autorevoli, è un centro sinistra che è responsabile dei gravi danni che oggi l'Abruzzo subisce. Il Movimento 5 Stelle è chiaramente la forza che continua a danneggiare gli italiani. Aumentano le tasse, tolgono i finanziamenti all'Abruzzo, compreso la mia città, parlo del decreto periferie. Il candidato presidente dice di voler togliere i soldi del masterplan che riguardano Chieti. Resta il centro destra che fino ad oggi ha dimostrato comunque un'affidabilità laddove ha governato e credo che oggi il centro destra possa e debba dare una risposta agli abruzzesi, anche con Marsilio.